Ciao a tutti, qualche giorno di relax all'aria fresca mi fanno pensare alcune cose che leggo. Ho visto l'analisi delle retribuzioni e delle tasse pagate nel 2022 dagli italiani e ovviamente qualche domanda, qualche dubbio mi viene come viene a tutti noi. Quindi pensate che tolto Milano e Bolzano i bar guadagnano in media 750 euro al mese ma sono quasi quelle che spendo io in un bar 750 euro al mese. E poi ho visto che avvocati e dentisti guadagnano meno degli idraulici. Ecco, ci sono alcuni paradossi che forse è il caso di analizzare ed è forse il caso che lo Stato ci metta bene la testa perché non è possibile far pagare le tasse sempre ai soliti, sempre ai lavoratori dipendenti e sempre ad alcune categorie.